Il comune chiede soldi per il tram, ipotesi via facciolati a senso unico, commercianti rivolta. Le opposizioni all'attacco, iniziata la raccolta di firme per chiedere il referendum sul tram. Alla Rosmini un'intera classe formata da stranieri, la regione manda gli ispettori. Lungo l'Arcine Brentella c'è una discarica a cielo aperto e nessuno interviene. Digi Padova, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Dunque l'ipotesi della realizzazione di una nuova linea del tram in via facciolati a Padova preoccupa i commercianti, non solo per il periodo di durata dei lavori ma anche per la futura viabilità e c'è chi è pronto a dare battaglia. Sentiamo nel nostro primo servizio. Se ci fosse anche l'ipotesi del tram, qui siamo proprio tutti quanti costretti a chiudere. Se non è il panico, poco ci manca. La notizia è che la nuova linea del tram potrebbe passare per via facciolati, trasformandola tra l'altro in un senso unico, con l'altra direzione di marcia che verrebbe trasferita sulla parallela via Crescini, si è diffusa in un baleno tra i commercianti di questa arteria fondamentale per l'ingresso e l'uscita nella zona est di Padova. La prospettiva di un lungo periodo con un cantiere aperto davanti alla vetrina e le incognite della nuova viabilità preoccupano parecchio e c'è già chi è sul piede di guerra. Con il tram per me viene fuori proprio un macello, non è una cosa proprio ammissibile. Io sono contraria, anzi sarò una delle prime persone che protesterà, ma veramente, duramente. I lavori, insomma, per i negozi questa cosa non è mica tanto bella. Sicuramente qualche disagio lo procurerà, però penso che poi bisogna vedere le cose un po' alla lunga, con un'ottica di lungo termine. I lavori potrebbero iniziare nel 2018 e durare circa due anni con la possibilità di inserire anche una pista ciclabile degna di questo nome, vista che l'attuale, come abbondantemente documentato dai nostri servizi, è del tutto insufficiente. Un cambiamento globale, insomma, ma un cambiamento che preoccupa parecchio e che secondo alcuni potrebbe portare a un futuro peggiore del presente. Un metrobus qui significa semplicemente avere l'opportunità di non avere più nessuna disabilità dal punto di vista del passaggio e tutto il resto. Io ho visto nelle altre situazioni della città dove si passa il tram che tante attività soffrono. Spero che tutto questo non sia una realtà, che sia una cosa che possa passare come notizia, ma non che possa essere verità. E sul tram è anche bufera politica. Le opposizioni vanno all'attacco. È iniziata anche una raccolta di firme per chiedere una consultazione popolare, un referendum proprio sul progetto del tram. Sul progetto del tram l'opposizione è convinta che ci siano troppi aspetti negativi. L'ex sindaco Bitonci aveva già deciso di non procedere con la seconda linea, di abbandonare la relativa richiesta di finanziamento e di puntare sugli autobus elettrici. Al momento però la situazione era ferma. Ora l'improvvisa accelerazione contro il tram però parte in queste ore una raccolta firme. Su questa vicenda io credo che la popolazione debba essere interpellata e noi promuoveremo un referendum cittadino che faccia esprimere tutti i padovani. Già l'esperienza precedente del tram ha comportato dei gravi vulnus alla cittadinanza e soprattutto alle attività commerciali, le piccole attività commerciali. Riteniamo che un tema come questo debba essere sottoposto all'attenzione di tutti i padovani. Per il referendum popolare serviranno circa 4.000 firme che dovranno essere presentate al sindaco insieme al quesito referendario, quindi si potrà passare alla consultazione vera e propria. Intanto la vicenda della classe solo con bambini stranieri di una scuola primaria dell'Arcella che sta dividendo l'opinione pubblica a Padova provoca anche la reazione della minoranza convinta che non si tratti di un episodio di buona integrazione ma di una sorta di ghetto. Questo è un chiaro segnale di un errore di integrazione e politiche fatte negli ultimi 15 anni. Non si possono creare dei ghetti in città, anzi nelle zone dove c'è maggiore concentrazione di stranieri bisogna fare i maggiori investimenti in modo che gli italiani non se ne vadano via. Dunque avete sentito anche l'ex sindaco Bitonci parlare del caso della classe composta solamente da alunni stranieri. L'istituto Rosmini parla di classe ghetto, intanto la regione ha deciso di inviare i propri ispettori e noi abbiamo chiesto l'opinione dei padovani. Alla scuola elementare Rosmini di Padova arriveranno gli ispettori della regione e scoppia la polemica sulla classe composta solamente da alunni di origine straniera in un quartiere, l'Arcella, dove la percentuale di non italiani supera il 30%. La classe di soli stranieri è un caso che non ha precedenti nel padovano e divide le opinioni anche a livello di enti pubblici tra chi contesta e chi difende la scelta. Da un lato la regione parla di provvedimento che nuocerebbe al processo di integrazione dei bambini che così verrebbero isolati, dall'altra la dirigenza scolastica e il comune che reputano sbagliata l'unica alternativa possibile, vale a dire il trasferimento di una parte degli alunni. La prima elementare è composta da 24 bambini nati tutti in Italia da genitori stranieri Albania, Bangladesh, Cina, Marocco, Moldavia, Nigeria, Portogallo e Romania quasi tutti hanno frequentato l'asilo. Secondo me in un'ottica di integrazione sarebbe meglio che vengano distribuiti in tutte le classi e non in una sola. Se poi per questioni di numeri invece dovessero essere tutti concentrati in una classe perché oggettivamente in quella scuola non si può fare altrimenti per questioni organizzative allora non vedo quale sia il problema. Se c'è veramente un corso da fare e che questi bambini sappiano già l'italiano è un discorso, si integrano con gli altri e se no hanno bisogno di qualcosa di diverso secondo me perché se no diventa una cosa un po' complicata, rallentano anche gli altri. Ci potrebbe essere il problema opposto di avere dei disagi da parte degli alunni locali nei confronti degli stranieri. Per quale motivo? La cultura potrebbe raffermarsi, culture predominanti da parte degli stranieri. Probabilmente fare delle classi di soli stranieri è effettivamente aggettizzante perché anche se puoi più focalizzare l'insegnamento sulle loro carenze rallenti l'integrazione. E adesso con le prossime immagini vi mostriamo una discarica a cielo aperto in uno dei luoghi più verdi e tranquilli della città. Stiamo parlando del Lungargine Fabre a Chiesa Nuova. Questi sono bei freschi perché ieri non c'erano. Rifiuti freschi di giornata a Chiesa Nuova sul Lungargine Fabre in Riva al Brentella. Detto anche il Lungargine dei Divieti. Qui su disposizione dell'ex vicesindaco e assessore alla sicurezza Maurizio Saia che abita nelle vicinanze, da qualche anno ha infatti vietato nell'ordine accendere fuochi, il bivacco e lo scarico di materiali. Nessuno controlla e perciò ecco che il Lungargine è diventato una discarica a cielo aperto. I residenti non ci stanno. Non fare fatica a metterli dentro oppure se c'è troppo con lui che sta in porta di rivolarci. Noi veniamo a camminare tutti i giorni. Di cosa vedete? Ci racconti? Sacchi ma non si vede le persone. Adesso ho trovato un signore e mi hanno detto che sono quelli di Urbano che portano qua i sacchi perché c'è la bilancia. E ora per non pagare portano i sacchi qua. E queste sacchi dappertutto. Questo imbarba al divieto numero tre. Ma le cose non vanno bene nemmeno per gli altri due divieti. Mangiano, bevono e lasciano quello che lei ha ripreso. Carabinieri, i vigili e poi la polizia possono girare qualche volta. Ma qui non si vede uno di loro. Non lo vediamo solo in caso eccezionale. Servirebbe una telecamera per provare a individuare i vandali notturni e le persone che infrangono i divieti. Inquietante la presenza nei sacchi di rifiuti di materiali edili. Poi tra il serio e il faceto le signore che camminano sull'argine inquieta anche l'odore misterioso che esce dai sacchi. E chi lo sa? Chi lo sa? Avevamo paura che sia anche qualche morto dentro. Io ho vertito i vigili più di qualche volta. Non ho avuto risolto. Li aspettate? Li aspettiamo. Insomma una situazione inaccettabile. Chi di dovere dovrebbe intervenire quanto prima. È tutto. Grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona serata. Arrivederci.